Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6 in apertura. Parliamo della visita questa mattina del ministro dell'interno Marco Minniti che è stato a Pescara, presso la sala dei marmi della provincia per incontrare i sindaci dei paesi del territorio, sottolineando l'importanza per il governo del tema della prevenzione in materia di sicurezza e sottolineando anche l'importante ruolo che sul territorio rivestono gli amministratori locali. Il servizio è di Paolo Renzetti. Non c'è democrazia senza sicurezza, ma essere sicuri vuol dire anche essere liberi. Queste le parole pronunciate nel giorno del 25 aprile a Pescara dal ministro degli interni Marco Minniti che ha scelto proprio il capoluogo adriatico e la sala dei marmi della provincia per le celebrazioni della liberazione. Affiancato dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, dal presidente della provincia Antonio Di Marco e dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il ministro ha spiegato come il governo ponga massima attenzione al problema terrorismo nel paese. Siamo uno dei grandi paesi del mondo che ha sconfitto il terrorismo. L'ha sconfitto tuttavia non perdendo se stesso, l'ha sconfitto mettendo in campo tutti quanti gli strumenti di una democrazia. Questo è il cuore della questione. Combattere il terrorismo, combattere il terrorismo da democrazia, è una democrazia combattere il terrorismo mettendo in campo gli strumenti di una democrazia, non perdendo se stesso. Questo è il valore della discussione che facciamo oggi, perché i valori della democrazia sono i valori del 25 aprile. Quei valori sono oggi più che mai importanti, più che mai sono strumenti per comprendere come una società possa avere legittimamente un futuro. Sono 72 anni, ma quei valori sono di straordinaria attualità. Vedete, se questo è il quadro, se abbiamo cioè una minaccia, cosiddetta prevedibilità zero, voi comprendete che c'è bisogno anche di avere una risposta nella capacità di prevenzione che sia all'altezza di prevedere quello che è imprevedibile. E per fare questo, naturalmente, c'è bisogno di avere più intelligence. L'intelligence italiana è una struttura che ha una capacità, una sua forza. In questi anni ha dimostrato di sapersi far valere. Ma se vogliamo prevedere l'imprevedibile, l'unica cosa che si può fare è avere il controllo del territorio. E qui viene il punto del rapporto strategico con il territorio. Guardate, il decreto che è stato fatto sulla sicurezza urbana non è una misura d'emergenza. È esattamente l'opposto come quella sull'immigrazione. Io penso che sulla sicurezza e sulla immigrazione le cose che non funzionano sia quelle del gire sul terreno dell'emergenza. L'emergenza è da cattivi consigli. L'emergenza ti porta sempre a misurarti con una cosa che esplode e tu cerchi di tamponare su questi temi. Noi abbiamo bisogno invece di una visione, di un progetto. E' l'idea del rapporto strategico con il territorio, con la regione, con la provincia, con i sindaci. Io vedo qui tanti sindaci con le fasce tricolori. Mi fa molto piacere vedervi con le fasce tricolori perché appunto è quello che penso io. Siete un pezzo fondamentale delle istituzioni democratiche del nostro Paese. E veniamo alle celebrazioni per la festa della liberazione in questo 25 aprile. Siamo stati a Piazza Garibaldi a Pescara dove la cerimonia si è svolta, la presenza delle massime autorità politiche, militari e religiose. Al nostro microfono un reduce partigiano di 93 anni che salvò nel 1945 tanti prigionieri dai campi di concentramento. Anche Pescara ha celebrato la ricorrenza del 25 aprile con una cerimonia che si è tenuta in Piazza Garibaldi alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia anche tanti cittadini con molti reduci e partigiani, fra cui Nicola Cappellucci, partigiano 93enne iscritto all'AMPI che nel 1945 salvò decine di prigionieri stranieri di un campo di concentramento fuggiti da Sulmona e che lui ospitò e nascose nella sua casa di Caramanico Terme in provincia di Pescara dove riuscì a farli rifugiare in un pagliaio prima dell'arrivo dei tedeschi. Sì, non si può dimenticare, specie quanti prigionieri ho salvato, è un mandato che ho trovato a traversare la Maiella. Tra questi un certo Simon Sabac di Alessandria del Getto, il quale mi fece una lettera di ringraziamento a non finire dopo la guerra. Questi erano scappati da Sulmona maggiormente, dal campo di concentramento di Sulmona. E attraverso Caramanico venivano, io ho cercato di aiutarli. Anche ospitandole a casa? A casa, li ho ospitati a casa, li ho ospitati dopo, non potendo più ospitare a casa, che i tedeschi cominciavano a rinunciarli questi qua, li portai nel pagliaio. Dal pagliaio è una grotta, uno di questi addirittura mi fece un autoritratto. Gente veramente che hanno avuto bisogno di aiutati. Ricordo tra i guai che abbiamo passato, quando sono venuto a rastrellarci i tedeschi, che ammazzarono una famiglia intera al mio paese. Questi perché ho trovato dei prigionieri che non rimasti ancora qua vicino a casa sua, fece molta neve e con la neve naturalmente questi uscirono per cercare, non lo so se qualcuno ha fatto la spia o li hanno visti i tedeschi, li portarono a ammazzare il padre e la madre e la ragazza di vent'anni, che abitavano vicino a casa mia. Dopo di questo sono venuti da noi i tedeschi, io e mio padre, via di secolo, ci erano sfuggiati sotto un pagliaio. Questi con le baionette cercavano, ma noi stavamo morto sotto. Si riuscite a salvarli? Si riuscite a salvarli, abbiamo salvato molti i prigionieri. La cronaca non ce l'ha fatta la donna di 51 anni che lo scorso 11 aprile era rimasta gravemente ustionata insieme alla madre 75enne mentre accendeva il camino di casa a Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara. La donna è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverata a pochi giorni dal decesso della madre, avvenuto al Bufalini di Cesena. Le due donne erano state investite da un ritorno di fiamma mentre cercavano di accendere il fuoco usando l'alcol. Subito soccorse erano state trasportate prima negli ospedali di Chieti e Pescara e poi trasferite nei centri grandi ustionati di Roma e Cesena, ma nessuna delle due purtroppo ce l'ha fatta. Adesso andiamo avanti e torniamo a occuparci del caso del project financing dell'ospedale di Chieti. L'ANAC è stata indotta in errore. Il presidente D'Alfonso risponde al Movimento 5 Stelle che aveva sollecitato l'autorità nazionale anticorruzione. Per D'Alfonso basterà un supplemento di documentazione per dirimere i dubbi dell'autority guidata da Raffaele Cantone. Vediamo. Presidente D'Alfonso, è partita da poco una procedura di vigilanza dell'ANAC per quanto riguarda il project financing. Questa notizia è stata resa nota questa mattina dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Lei ha parlato di ANAC raggirata da qualcuno. Da chi e perché? Io ritengo che la Marcozzi sia nella più totale innocenza. Forse anche spensieratezza e la ringrazio di questa attività ulteriormente documentale. Ho la percezione che l'ingegnere Filippo Romano, con questa tripice cartacea che ha inviato alla Regione Abruzzo, sia stato messo nella condizione, diciamo, difettosa dal punto di vista documentale. Poiché, primo, abbiamo già dito noi l'ANAC, mettendo a conoscenza dell'ANAC circa l'intera procedura. Secondo, in ordine alla premura effettivamente resa da ANAC per quanto riguarda la consistenza del canone di concessione, che è l'elemento che è oggetto di grande lettura diligente da parte di ANAC in questo caso e in altri casi, noi siamo davanti ad una non proceduralizzazione, perché deve essere ancora qualificato il proponente come promotore, deve essere ancora tenuta la gara come notorio per tabulas e il fatto che l'ingegnere Romano arrivi a richiedere gli atti di gara, i verbali di gara, mi fa pensare che qualcuno lo abbia raggirato, tant'è che io il 26 sarò da lui per ricostituire l'integrità della sua posizione lavorativa, facendo in modo che il flusso documentale sia corretto e magari anche l'accompagnamento orale, che a volte segue rispetto all'invio documentale. Da quello che ho letto io, da questi tre fogli di carta di ingegnere Romano, sembra quasi che si sia già tenuta tutta la procedura, qualificato il promotore, tenuta la gara d'appalto, stabilita la quota come canone di concessione. Tutto questo non c'è stato ancora, c'è stata una delibera di giunta nel 2016 che ha esattamente dettagliato cosa fare per il pieno rispetto del pubblico interesse. Qui vi comprendendo anche il massimo del contenimento del canone economico, che se dovesse servire deve essere minimale per consentire la copertura economico-finanziare di questa notevole massa di lavoro che noi riteniamo essere necessari lì all'importante presidio ospedaliero della città di Chieti. Noi procediamo speditamente, ci si danno 30 giorni per riscontrare i documenti, noi impieghiamo 30 minuti a partire da questa conferenza stampa. Il Presidente si attenga alle richieste di ANAC e segua la prassi dettata dai regolamenti, altrimenti faccia i nomi di chi avrebbe raggirato ANAC. Lo afferma la consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi che prosegue la conferenza convocata ieri di fretta e furia insieme all'assessore Paolucci. Sembra piuttosto una corsa al riparo per giustificare l'apertura della procedura di vigilanza di ANAC che abbiamo presentato ieri mattina. Un tentativo forse di coprire le inefficienze tecnico-amministrative dell'operato del suo governo. Il Vice Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha presentato il bando Farecentro che prevede finanziamenti da un minimo di 20.000 a un massimo di 200.000 euro a fondo perduto per il 50-70% dell'importo per tutte quelle attività che sceglieranno di tornare nel centro storico dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico. Il servizio di Alfredo Primante. Artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ambulanti a stallo fisso e studi professionali potranno tornare ad insediarsi nel cuore dell'Aquila e degli altri centri colpiti dal sisma del 2009 potendo contare su un contributo pubblico. È l'iniziativa Farecentro, uno strumento normativo con il quale la Regione Abruzzo intende concedere sussidi economici a fondo perduto a beneficio di quelle attività economiche che sceglieranno di tornare nel centro dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico. Il bando nei prossimi giorni sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e prevede una dotazione finanziaria complessiva per il biennio 2017-2018 pari a 12 milioni di euro. Sono previsti i contributi compresi tra il 50 e il 70% annetto dell'IVA, sempre secondo i principi fissati dal regime del De Minimis, a beneficio di imprese che effettueranno investimenti beni immateriali e materiali. Secondo una prima stima sarebbero circa 500 le imprese che potrebbero beneficiare del contributo con la conseguenza di generare un'opportunità di lavoro per circa 1.500 persone. Non sono mancate le polemiche però per un bando che è arrivato proprio a ridosso delle elezioni per scegliere il nuovo sindaco dell'Aquila. L'abbiamo fatto sia nell'impostazione e sia anche proprio nella costruzione del bando con il partenariato, come prevedono le norme europee, cioè con tutti i soggetti sociali, le organizzazioni che sono rappresentanti dei portatori di interesse. È venuta fuori una cosa condivisa, secondo me molto seria, molto innovativa e soprattutto una cosa che non c'era in Italia. È la prima volta che si fa un'iniziativa di questo genere e credo che questa iniziativa, o notizia, che questa iniziativa ispirerà anche altre calamità. I sostenitori della mozione Emiliano per la corsa segretario nazionale del Partito Democratico hanno presentato le liste che concorreranno alle primarie nelle quattro province abruzzesi. Vediamo. Presentate le liste a sostegno della mozione di Michele Emiliano in Abruzzo, mozione sostenuta tra gli altri dall'onorevole Antonio Castricone e dal sindaco di Francavilla Antonio Luciani. Per la provincia di Pescara capolista sarà Milko Frattarelli, segretario dei Giovani Democratici. Per la provincia di Chieti il capolista è invece Luigi Febo, consigliere comunale del PD a Chieti e amico di vecchia data del governatore della Puglia. All'Aquila il capolista è Franco Andrea Casciani di Sulmona, già presidente del Consiglio durante l'amministrazione Ranalli, mentre a Teramo il capolista è Vincenzo Macedone, segretario del circolo PD di Montori Alvomano. Il partito ha bisogno di uomini come Emiliano, ha commentato Luciani, che ha chiamato il leader via telefono per renderlo partecipe delle scelte fatte in Abruzzo. Io so che avete fatto un lavoro capillare, avete strutturato tutta l'area di riferimento che noi chiamiamo ormai fronte democratico, che è l'area che abbiamo formato tutti insieme e nella quale ovviamente si lavorerà non solo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, ma anche successivamente, perché voglio ricordare che questo è un congresso di partito, non sono delle elezioni comunali o della presidenza della regione, sono i metodi attraverso i quali si compone la politica del più grande partito del centro-sinistra italiano. L'obiettivo è quello di cambiare il partito, di cambiare questa impostazione, che non è solo un'impostazione nazionale, ma che poi è diventata un'impostazione a tutti i livelli, dai circoli ai livelli provinciali e regionali, di un partito che non parla più, di un partito, se va bene, autoreferenziale, che stenta a riunirsi, che stenta a confrontarsi e che stenta poi anche a capire le vere esigenze delle persone, rispetto alle quali un partito di sinistra come il Partito Democratico non può mai perdere questa vocazione. Noi vogliamo che si torni esattamente a questo e questa sfida, per quanto difficile, con la candidatura di Emiliano, ha esattamente questo sapore e questo significato. L'Aquila valanga di multe nei controlli della Polizia Municipale sulla spazzatura. Ancora tanta confusione sulla differenziata. Germana Dorazio. Non lasciano scampo all'inciviltà i controlli della Polizia Municipale dell'Aquila sulla raccolta differenziata. Sono infatti in corso i controlli a campione sui cassonetti in diverse parti della città. A essere controllati sono i sacchi della spazzatura indifferenziata perché è lì dentro che non devono essere buttati carta, plastica e organico. Ad oggi, però, le notizie non sono confortanti perché le infrazioni riscontrate sono davvero molte. Sebbene gli agenti della Polizia Municipale addetti al controllo usano tutto il buonsenso che il caso richiede, le infrazioni risultano notevoli, tanto da far registrare anche casi di 100 sanzioni su 100 controlli. Infatti, nell'indifferenziata, al momento dell'apertura dei sacchetti è stata spesso riscontrata la presenza di plastica e vetro in gran quantità. Le multe, in questo caso, sono inevitabili perché il secchio è contrassegnato da un codice intestato a chi lo ha preso incomodato d'uso. Stesso discorso vale per i cassonetti condominiali. La multa, in quel caso, è fatta al condominio. I cittadini spesso protestano imputando a passanti la contaminazione dell'indifferenziata. Ma l'azienda dei rifiuti, la SM, e la Polizia Municipale garantiscono che, nei controlli, si rileva con chiarezza quando un'infrazione della norma è casuale e quando l'infrazione è abituale. tanto vale mettere più attenzione alla raccolta differenziata e sensibilizzare anche i vicini a farlo, sia per la tasca sia per la salute, perché le sanzioni che arrivano fino a 500 euro sono una bella botta sia per il portafogli che per il cuore. Apriamo la pagina dello sport. Il Pescara retrocede matematicamente in Serie B. Il verdetto è stato pronunciato ieri sera quando i biancazzurri sono stati travolti dalla Roma. Partita senza storia per il Delfino e l'ennesima umiliazione stagionale. Servizio. La Roma passa come da pronostico agevolmente allo Stadio Adriatico per 4-1 riportando a più 4 il vantaggio in classifica sul Napoli rimanendo a meno 8 dalla vetta. Tutto facile per i giallorossi già proiettati al derby di domenica prossima con la Lazio. L'ennesimo KO stagionale sancisce invece la retrocessione matematica del Pescara in Serie B dopo una sola sciagurata stagione nella massima serie. Si ripartirà il prossimo anno dal torneo cadetto ancora con Zeman ma con una squadra probabilmente rivoluzionata. La Roma si presenta in campo con il solito 4-2-3-1 in difesa Emerson e preferito Juan Jesus. Il Pescara risponde con il 4-3-3 di stampo Zemaniano e con coda centrale al posto dell'infortunato Campagnaro. Al terzo pronti vie gol della Roma annullato a Salah per fuori gioco che lascia parecchi dubbi. Al quinto arriva la risposta del Pescara affidata a Bebec che crea un brivido nella difesa a Capitolina. Gara a viso aperto soprattutto per merito della Roma che al sesto è vicina al vantaggio con El Charau che trova la respinta di Vincenzo Fiorillo. L'assedio romanista è costante con Dzeko che al diciottesimo ci riprova trovando ancora un Fiorillo reattivo. Passata la Buriana i ragazzi di Zeman riescono a spostare il baricentro in avanti di qualche metro con la Roma che per qualche minuto tira il fiato. Si arriva così negli ultimi dieci minuti della prima parte di gara quando la Roma trova però negli ultimi secondi del primo tempo le due reti che decideranno di fatto la partita. Al 44esimo Strootman sul servizio di El Charaui a trovare l'1-0 mentre qualche secondo dopo ci pensa Nainggolan a raddoppiare dopo un'azione in contropiede avviata da Salah e rifinita da Dzeko per il Pescara in notte fonda anche perché al terzo minuto della ripresa Salah con un tiro ad effetto da 18 metri va a segnare il gol del 3-0 sotto la curva dei tifosi romanisti. La differenza di valore in campo è a dir poco evidente visto che Dzeko arriva ad un passo dal 4-0 all'undicesimo la squadra di Spalletti fa accademia al cospetto di un Delfino affranto al 14esimo Lampo però del Pescara prima con Biraghi e poi con Bebec prima del poker firmato sempre al 14esimo ancora da Salah e ancora in contropiede in una gara che non ha poi più nulla da dire spicca al 25esimo la plateale protesta di Dzeko verso Spalletti al momento della sostituzione con Grenier è l'unica vera emozione del secondo tempo anche perché al 31esimo si vede Caprari con una bella conclusione a cui dice no in angolo Scerseni il Pescara trova poi il gol del 4-1 al 38esimo con Ben Ali prima del palo colpito su punizione da Biraghi al 42esimo troppo poco però per mettere pressione al Roma con la testa al derby con la Lazio di domenica prossima per il Pescara la testa invece al prossimo campionato di Serie B nel dopo partita Zeman dice che il Pescara deve comunque cercare di onorare l'impegno fino alla fine cercando di guadagnare almeno una posizione in classifica e non arrivare ultimi e poi punta l'attenzione sulla mancanza di un centravanti di ruolo mancanza che si è fatta sentire negli ultimi mesi la mentalità mia penso che che si è vista nel senso che noi abbiamo oggi costruito tante occasioni da gol che non abbiamo fatto in sei partite insieme la fase offensiva magari ci è venuta perché attaccanti finalmente si sono mossi verso area di rigore su fase difensiva c'è da dire tanto perché prendere tre gol in contropiede è brutta cosa sapendo che giochiamo contro la Roma di solito la Roma trova le squadre chiuse quindi c'è più difficoltà ma noi abbiamo provato tentato di giocarsela e la Roma è ancora troppo più forte rispetto a noi questa è una è una retrocessione insomma quota Zeman possiamo dire al 10% o di meno secondo lei non faccio io sono venuto sperando che riesco a impostare un certo tipo di gioco e una certa mentalità per lungo tempo non mi è riuscito poi a questa squadra manca quello che può fare gol mentre l'anno scorso c'era la Padula che ci ha risolto con 28 gol tante situazioni noi oggi non abbiamo un gelardino sano e noi dobbiamo prima finire quest'anno io ho ancora obiettivo di superare un avversario o due non vogliamo finire ultimi quindi ci dobbiamo impegnare poi prossimo anno per prossimo anno si vedrà è normale che noi abbiamo visto qualche giocatore che ci può interessare speriamo che possiamo chiudere il successo permette invece alla Roma di allungare sul Napoli per il discorso secondo posto ma tiene banco il caso Giacomo ascoltiamo le parole del tecnico Spalletti una partita che io temevo molto perché poi sapevo di queste qualità che ha il Pescara che ha in base alle qualità dei propri calciatori ma che poi il suo allenatore Zeeman sa ancora di più caricarci sopra perché quando attaccano gli spazi in taglio quando hanno queste vampate queste ripartenze cattive per attaccare gli spazi l'ha visto la Juventus l'ha visto il Milan gli ultimi tre risultati aveva fatto due pareggi una sconfitta con la Juventus per cui ma complessivamente è stata fatta una grande partita ecco gli ho fatto complimenti all'interno dello spogliatoio a parte che su 4-0 hanno un pochettino alleggerito poi da un punto di vista di lotta da un punto di vista di aggressività ma una cosa anche normale 20 minuti alla fine l'ho levato non è che l'abbia levato alla fine il primo tempo dopo gli è rapidato 5 palloni per far gol se vuole andare a attizzare ancora di più o a ridare forza il numero alla classifica dei vannonieri gli è capitato 5 palloni per cui ha fatto un po' di fatica il risultato è al sicuro Emerson è un po' che non gioca e ha abbassato e c'era il rischio di rintossicarlo di rinfiammargli poi il tendine a farlo giù a 90 minuti sostituisco Emerson Paredes ammala la caviglia perché ha preso questa botta dove gli è girata esci 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 ma devi sempre tenerti una sostituzione perché se no avrai tolto tutti e tre quelli davanti e ora la Lega Pro parliamo di Teramo prima la salvezza e poi riprogrammare cercando di cancellare gli errori degli ultimi due anni questi gli obiettivi fissati dal patron bianco-rosso Campitelli che non chiude ad un'eventuale cessione societaria chi è interessato dice si faccia avanti con una proposta concreta vediamo Presidente quanto rammarico c'è per una vittoria che è scivolata via anche per un errore arbitrale che è sembrato davvero evidente ma a prescindere domenica che credo la partita ai punti l'avremmo potuta vincere noi ma per quello che abbiamo sbuttato in passato perché oggi con un tre punti in più noi diciamo che saremmo quasi salvi se non salvi quindi purtroppo è un anno nato male speriamo che finisca bene perché credo che sia come società che come diciamo squadra come pubblico sicuramente degli errori sono stati fatti altrimenti non saremmo dove oggi ci troviamo credo che meritiamo anche di restare in questa categoria e poi riprogrammarci completamente per poter ristrutturarci e fare un programma ripartendo un attimino dal basso ma con un attimino una programmazione che negli ultimi due anni per la voglia di tornare a rivincere subito sicuramente degli errori sono stati fatti spendendo anche tanto Presidente comunque vadano le cose Campitelli resterà al suo posto diciamo che il Tenamo è di mia proprietà quindi Campitelli resterà al suo posto Campitelli in questo momento credo che sia anche un bene per per il Teramo e per tutti quanti i tifosi se poi si vuol cambiare Campitelli basta poco basta chiamare la proprietà e basta fare un'offerta e lì trovare un giusto accordo tra le parti il giovane difensore del San Nicolo Riccardo Di Stefano la scorsa settimana è stato due giorni in prova alla Juventus allenandosi con la primavera di Fabio Grosso il giocatore ha parlato ai nostri microfoni di questa importante esperienza Agna Cantagalli Riccardo ha 17 anni non è da tutti andare a Vinovo e fare un provino per la Juventus beh è stata sicuramente un'esperienza bellissima una delle più belle della mia vita e comunque sono felice anche perché è stata un'esperienza molto positiva e sono anche molto soddisfatta e spero di aver fatto bene e di aver attirato l'attenzione di questa grande squadra perché da ambienti bianconeri si dice già che l'anno prossimo ti aggregherai alla primavera di Fabio Grosso io non lo so comunque se la Juve dovesse volermi ben venga però adesso io penso solo al campionato e a continuare a far bene per la mia squadra avrai ovviamente te lo auguriamo una lunghissima carriera davanti ma fino a questo momento a chi ti senti di dire grazie io mi sento di dire grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in primis al mister che è stato il primo a darmi fiducia inoltre a tutto lo staff a tutti i compagni che mi hanno aiutato a crescere ma non solo anche ai mister degli altri anni degli anni scorsi perché tutti sono stati d'aiuto a farmi crescere nella mia speriamo carriera Qualcuno della Juventus l'hai visto? Ho visto Pianici in macchina così di sfuggita Finisce qui la prima edizione del TG6 le prossime alle ore 19 e alle ore 23 grazie per averci scelto